Il libro è, diamante nel piatto, Storia Golosa della Sicilia in cento ricette e conti. Storia Golosa della Sicilia perché c'è una prima parte che è la storia della Sicilia raccontata dal punto di vista del cibo ed è sorprendente quello che si scopre ripercorrendo tutta la nostra storia attraverso il cibo seguita da cento ricette e conti, cento ricette storiche, antiche, dimenticate che va la pena di riscoprire e ciascuna delle quali preceduta dal suo punto perché le ricette hanno un'origine, sono legate spesso al culto di un santo o un ingrediente o a un territorio particolare o tante volte anche proprio ad una necessità contingente che è quella proprio di cibarsi e di farlo al meglio possibile con le ricette che abbiamo, con le risorse che abbiamo. La Sicilia è un territorio straordinario, ha una varietà microclimatica amplissima il che ci fornisce di una gamma di ingredienti straordinaria perché questa varietà è biodiversità quindi abbiamo una dispensa ricca di ogni bene a questo si aggiunge una variegata etnodiversità che è frutto delle infinite dominazioni che ci sono state quindi delle varie influenze culturali e qui tutti i popoli hanno trovato casa da tutti abbiamo preso qualcosa e a tutti abbiamo dato qualcosa quindi è il big mental pot della storia la Sicilia e la combinazione di biodiversità ed etnodiversità dà vita ad una gastrodiversità che fa della cucina siciliana la più buona cucina del mondo. Cibo e vino per il turismo sono assolutamente straordinari il vino perché i siciliani lo sanno fare, lo fanno bene abbiamo tanti vitigni nostri importanti, abbiamo tanti produttori che sono presenti nei nostri mercati e il fatto che il vino arrivi fuori dalla Sicilia fa sì che poi i turisti abbiano voglia di venire a scoprire, a passeggiare tra i filari, a capire come si fa il vino e dove nasce quel vino. Lo stesso accade per il cibo perché, e poi basti pensare allo straordinario successo di Montalbano i libri di Camilleri tradotti in 37 lingue del mondo, la fiction venduta in 65 nazioni significa miliardi di persone che subiscono la suggestione della Caponatina, del Cannolo o di tante altre cose che, perché i racconti di Camilleri ma così come anche i romanzi di Simonetta Agnello Hornby sono pieni di cibo e allora anche questo incuriosisce e da fuori vogliono venire, vogliono imparare, io spesso, io stessa spesso ho richieste di gruppi che mi chiedono lezioni di cucina ma vogliono la cucina autentica, quindi ai nostri cuochi, ai nostri ristoratori io dico offrite la Sicilia vera, la Sicilia riscoprite la nostra storia a tavola, le ricette nella loro più autentica essenza perché quello che i turisti si aspettano da noi hanno voglia di conoscerlo, di mangiarlo hanno voglia di qualcuno che glielo racconti, hanno voglia di impararlo e questo è veramente il nostro futuro